Tutto mi presento, sono Maria Teresa Tuccio e sono una socia della PSG, una delle due associazioni genovesi che ha proposto questo incontro. L'altra associazione è il Costituto di Genova Reggio Emilia. Siamo impegnati da mesi su questo argomento della transizione ecologica perché rientra nella nostra mission, nell'attività che svolgiamo, la tutela dell'ambiente e della salute compare ai primi posti, a fianco di temi come solidarietà, cooperazione e diritti, come si può vedere dai siti internet delle due associazioni. Quando si è iniziato a parlare di transizione ecologica e della gran quantità di finanziamenti che arriveranno in questo campo all'interno del PNRR, abbiamo cominciato a interrogarci su quale transizione ecologica vogliamo e cos'è davvero necessario per una reale conversione ecologica che non sia semplicemente una mano di pittura verde sull'esistente, per esempio un campo energetico che non sia semplicemente il passaggio da una risorsa energetica ad un'altra pur di continuare a crescere, senza affrontare gli enormi problemi che questo modello di sviluppo ha prodotto in ogni campo ambientale, energetico e quant'altro, problemi che ormai quotidianamente sono sotto gli occhi di tutti. A luglio abbiamo iniziato ad affrontare questo discorso in due conferenze organizzate all'interno delle manifestazioni per commemorare i vent'anni del G8 di Genova. Infatti in quel G8 erano stati sollevati tutta una serie di problemi strettamente correlati ai discorsi che facciamo oggi, problemi che purtroppo in questi anni sono stati del tutto disattesi, non hanno avuto niente. Abbiamo invitato a luglio Francuccio Gesualdi del Centro Nuovo Modello di Sviluppo di Pisa che ha fatto un intervento dal titolo Per una radicale transizione ecologica e Maurizio Pallante, fondatore del movimento Decrescita Felice e attuale presidente di un'associazione col nome che si autodefinisce Sostenibilità, Equità, Solidarietà. E Pallante ci ha illustrato il suo recente libro Ultima Chiamata Cosa ci insegna la pandemia e quali prospettive può aprirci La registrazione di queste conferenze, provo a condividere in modo da darvi un'idea La registrazione di queste conferenze è disponibile sul canale YouTube dell'Ozzentero Su questo canale potete trovare la conferenza di Pallante e quella di Gesualdi e non ultimo anche questa conferenza che era stata fatta a giugno da un nostro socio fisico di formazione e si è sempre occupato di fotovoltaico che è una simulazione tra il serio e il faceto della situazione energetica di Genova nel 2050 Genova nel 2050 con una popolazione di poco superiore a mezzo milione di abitanti e lui faceva due conti per vedere se l'energia fornita dal sole e del vento potrebbe essere sufficiente per una città di questo tipo Interessante è anche lo sviluppo di pannelli orizzontali, di orti verticali e quant'altro Durante l'estate poi abbiamo programmato questo ciclo di conferenze che iniziamo oggi con Rossano per approfondire l'argomento e anche per informare e formare perché proprio come dice Rossano in uno dei primi capitoli del suo libro le buone intenzioni non bastano occorre formare delle conoscenze per poterle divulgare e trasferire con competenza e questo è quello che vorremmo fare con questo ciclo di conferenze che adesso non mi vado a prendere la locandina questo ciclo di conferenze che inizia oggi e prosegue più o meno con cadenza quindicinale o mensile per esempio la prossima sarà questa di Guido Viale il 12 ottobre poi avremo due conferenze sull'importanza delle foreste e degli alberi tenute da Enrico Martini una a fine ottobre e l'altra a metà dicembre in novembre invece parlerà il chimico Nicola Armaroli illustrerà il suo libro Energia per l'astronale Terra all'era delle rinnovabili spero che in questa occasione potremo anche parlare dell'uscita del ministro Cinconani sul nucleare verde ne parleremo anche oggi bene, vedremo a gennaio abbiamo già contattato Ugo Bardi chimico di Firenze per il suo ultimo libro pubblicato di recente vorrei precisare che questi appuntamenti oggi sono online e poi la registrazione sarà sul sito questi prossimi appuntamenti saranno sia online con la solita modalità, il link sul sito dello Zenzero e sul sito di Ecoistituto Regione di Genova oppure in presenza al circolo Zenzero secondo il rispetto delle norme anti-covid un numero massimo di persone prenotazione obbligatoria e soprattutto Green Pass per accedere prima di chiudere e di passare la parola a Federico per presentarsi e introdurre Rossano ricordo che per la partecipazione alla discussione preferiamo che le domande vengano scritte in chat e le affronteremo alla fine e vi raccomando anche se siamo in pochi caldamente di chiudere i microfoni e possibilmente anche la videocamera ma essendo in pochi non è particolarmente fastidioso ultimissima cosa vorrei ringraziare Christopher che ci fornisce il collegamento Zoom e ci segue pazientemente dal punto di vista tecnico ci appoggia e ci risolve i nostri problemi e quindi ancora grazie a te a te Federico bene, grazie Maria Teresa io sono Federico Valerio per chi non mi conosce sono un chimico un chimico ambientale e faccio parte del direttivo dell'Ecoistituto Regione di Genova che è la seconda associazione che ha organizzato questi incontri passo subito a presentare il nostro primo ospite Rossano Ercolini Rossano fa il maestro di professione però da qualche tempo si è trovato un'altra occupazione Rossano è presidente di Zero Waste Europe è coordinatore del centro di ricerca rifiuti zero quindi si occupa di questa tematica dei rifiuti e nel 2013 ha vinto un premio molto particolare si chiama Goldman Environmental Prize è un premio a livello internazionale che so che gli ha cambiato la vita io me lo ricordo che pochi giorni del premio l'ho incontrato e mi dice non dirlo a tutti ma mi sto per ricevere questo premio ecco su questo volevo chiederti allora questo premio a Goldman Environmental Prize che cos'è e qual è la motivazione per la quale ti è stato assegnato questo premio? intanto buonasera a tutti è un piacere incontrarvi parleremo poi di quanto sia importante fare divulgazione informazione capillari è anche una bella opportunità per salutarti Federico perché ci conosciamo da un po' di tempo ma non sveliamo tutto in anticipo cos'è il Goldman Prize? l'hai accennato tu è un premio oggettivamente importante non certo perché io sono stato uno dei vincitori nel 2013 proprio perché non esiste il Nobel per l'ambiente è considerato il premio più importante anche perché è remunerato dell'ambiente e per l'ambiente che c'è a livello mondiale quindi ogni anno vengono individuati all'interno di un percorso complesso di nomination rappresentanti che vengono poi scremati alla fine sono sei i vincitori che vengono diciamo chiamati a San Francisco a questa grande celebrazione che comporta dieci giorni negli Stati Uniti nel mio caso è stato possibile anche incontrare il presidente Obama probabilmente sarebbe stato più complicato incontrare Trump perché in genere gli incontri con i presidenti avvengono soprattutto quando ci sono in carica presidenti americani è la fondazione Goldman quando io chiedevo ma perché proprio a me questo premio perché uno immagina che ci siano molte persone più brave di te quindi è anche un augurio perché nel mio piccolo ho pensato dico ma se siamo così ridotti le speranze non sono tantissime in realtà è un po' una battuta un po' era la percezione psicologica di chi comunque faceva le cose non perché come sa Federico per mettersi in luce per fare carriera o roba di questo tipo ecco la risposta della fondazione è stata perché noi vogliamo promuovere dare almeno per un po' visibilità a cittadini ordinari attivisti che hanno fatto cose straordinarie lei o tu perché in inglese il lei non esiste tu hai messo in campo una rete che è partita dal comune di Capannori e poi è diventato un coordinamento una rete nazionale ecco il compito dei vincitori del Goldman Prize è poi quello di mettere a disposizione delle realtà locali che non hanno santi in paradiso che non hanno personaggi famosi in televisione del supporto che magari come spesso mi è avvenuto io naturalmente non sono un personaggio televisivo però devo constatare statisticamente che quando arriva lo scrivono i giornali il Nobel dell'ambiente io cerco sempre di correggere perché se no poi si accusano di millantato credito beh allora arriva il sindaco arrivano i i presidenti della regione e quindi dai forza al messaggio che a livello locale non è semplice promuovere quindi ecco è un percorso di empowerment io sono stato sottoposto a un percorso di acquisizione di presa di coscienza del potere che è che è depositato in ognuno di noi e io a mia volta lo metto a disposizione la mia eh tra virgolette insomma il mio potere morale perché in realtà io non ho potere il mio potere morale lo metto a disposizione di tutti i gruppi che mi contattano mi invitano e devo dire che ho scoperto davvero una bella una bella Italia cioè un'Italia che ci rende positivi anche se se dovessimo guardarci intorno e soprattutto guardare solo la televisione il panorama non sarebbe esaltante comunque Rossano tu a questo punto il 2013 o prima in qualche modo come direvi ha una sfida importante insomma io lo paragono a quella del del piccolo Davide contro grande Golia in questo caso erano grandi utility per la produzione di l'utilizzo dei rifiuti per produrre energia elettrica quindi la storia degli inceneritori che ti ha visto in qualche modo protagonista puoi considerare questa una come dire un protagonista di una delle tante battaglie vinte da appunto da questi tanti piccoli comitati che però hanno come poi penso diremo in questa nostra chiacchierata hanno poi bisogno di un supporto per poter andare avanti volevo che tu mi parlavi parlassi di questi 321 comuni rifiuti zero che nascono in qualche modo da questa tua scesa in campo se mi puoi permettere questo termine ultimo sapevo sia stata da Sisi per poter inserire ecco ci vuoi parlare un po' di questa cosa per diventare comuni rifiuto zero un sindaco cosa è che deve fare beh allora intanto il percorso la storia dei per fortuna già il tuo dato è invecchiato immaginavo ci siamo sentiti per per concordare alcuni aspetti logistici di questo incontro ci siamo sentiti pochissimi giorni fa però io due giorni fa due giorni fa ero a Cecina per chi non conosce Cecina Cecina si trova un pochino a sud di Livorno e ho scoperto che ci sono altri tre comuni che stanno per aderire poi in questi in questi giorni ha aderito il comune di Monzummano Terme quindi oggi siamo a 324 per 7 milioni e 300 mila abitanti naturalmente noi rendiamo conto di tutto di tutti mi piace condividere un risultato che pur conoscendo tantissime buone pratiche amando i numeri quindi avendo la testa piena di numeri esaltanti la buona pratica di cui ho preso coscienza e di cui ho preso nota la voglio immediatamente condividere proprio nell'altra sera è emerso che un piccolo comune che si chiama Riparbella nel comprensorio appunto tra Livorno e Pisa questo comune quando è partito e tra l'altro aderendo a rifiuti zero aveva il 23% di raccolta differenziata ora è schizzata all'85% ma la notizia positiva la più esaltante è che ha ridotto del 90% la frazione residua il cosiddetto RUR rifiuto urbano residuo e quindi davvero rifiuti zero si può fare è vero che è un piccolo comune di 1800 abitanti ma è un comune che d'estate conta 100.000 presenze come voi sapete le presenze i giorni che vengono contrassegnate negli alberghi nelle strutture ricettive quindi rifiuti zero è davvero una buona notizia è davvero lì a dimostrarci che si può fare quindi questi comuni stanno dimostrando appunto come stai dicendo che si può fare sono piccole realtà quindi ci aspettiamo adesso che a grandi città adesso se hai qualche notizia a riguardo si inseriscano raccontacelo perché questa appunto questa esperienza dei comuni rifiuti zero di fatto anticipa in qualche modo quello che sta succedendo perché questa transizione ecologica riguarderà sicuramente questo argomento di quello che tu sai io non chiamo rifiuti sto interpretando appunto la tua sigla rifiuti zero come il fatto che anche il rifiuto è un concetto che vogliamo abolire da vocabolario perché è un concetto negativo mentre come dire quello che dobbiamo affrontare sono gli scarti di alcune lavorazioni che devono essere rimessi in nuovi cicli produttivi e comunque ne parleremo a questo punto volevo ecco diciamo così quindi in qualche modo questa esperienza sta dimostrando che il cambiamento è possibile confermi cioè piccole realtà ma che stanno crescendo nel tempo giusto? sì confermo perché siamo partiti nel 2007 da Capannori che è stato il primo che ha accolto la richiesta del sottoscritto che ebbe un incontro insieme al professor Paul Connett eventualmente del quale parleremo in seguito con il sindaco di allora Giorgio Del Ghingara che adesso è per il secondo mandato sindaco di Viareggio e non pensavamo di arrivare ad un percorso così entusiasmante tenete conto che fino al 2010 i comuni che avevano aderito erano appena 25 anche se Capannori aveva fatto una bella figura aveva fatto parlare molto di sé in realtà il messaggio non era stato recepito da molti altri comuni poi io uso la metafora essendo un maestrino che deve farsi comprendere dal bambino dell'ultima fila siamo partiti dal sassolino il sassolino è diventato una pietra la pietra è diventata un macigno ora l'importanza dell'adesione del comune di Assisi una delle capitali internazionali della spiritualità abbiamo voluto diciamo immediatamente condividere questo risultato e ora siamo a 7 milioni e quasi 500 mila italiani quasi una repubblica nella repubblica che io chiamo repubblica ripiuti zero che cosa ho imparato in questi anni ho imparato che se verticalizziamo non so se riesco con questa parola un po' difficile a rendervi l'immagine se andiamo direttamente al Parlamento o ai Parlamenti regionali l'ascolto non è completamente assente ma è modesto allora rifiuti zero è partito dalla periferia ha cerchiato i palazzi è partito non dai capoluoghi che spesso sono presidiati dalle lobby arriva la telefonata al presidente al sindaco del comune capoluogo magari nel caso di Genova invece i comuni periferici ma che sono anche grandi comuni perché si dice Capannori un piccolo comune beh Capannori ha 47.000 abitanti è il capoluogo del distretto cartario più importante d'Europa è un comune ricco dal punto di vista economico quindi comuni che sono desiderosi hanno anche mezzi per farsi valere nel momento in cui le lobby si concentrano sui capoluoghi sguarniscono la periferia e quindi noi abbiamo rastrellato abbiamo trovato tantissimi sindaci e soprattutto di piccoli e medi ma ci sono per esempio Perugia è l'unico al momento è il solo capoluogo di regione che è aderita di più di zero e passando da Perugia tornando da Assisi ho avuto conferma che Perugia 170.000 abitanti ha il 74% di raccolta differenziata e è amministrato dalla destra i comuni dell'elenco di cui parlavamo prima in prevalenza centrosinistra ma ci sono molti comuni di centrodestra ad Ascoli ho fatto una foto che qualcuno mi ha detto Rossano ma non ti sei sentito un po' imbarazzato perché? con il sindaco che è di Fratelli d'Italia e poi ci sono alcuni comuni che sono del 5 Stelle quindi il cambiamento è possibile forse anche noi tatticamente dobbiamo lavorare di più nell'Italia minore perché me lo insegnate voi a Genova è lo zoccolo duro dove le buone pratiche trovano più difficoltà a marciare è proprio così se te volevo a questo punto parlare del tuo libro appunto il bivio ce l'ho qua lo vedi? ah, perdon? non succede si vede? si, si vabbè comunque è il bivio quindi ha questo titolo il bivio manifesto per la rivoluzione ecologica è già questo come dire il sottotitolo potente insomma due parole è un libro che come abbiamo accennato che comunque tu lo dici lo racconti l'hai scritto durante questo periodo singolare che ci ha preso tutti il covid che ci ha chiuso in casa e a questo punto l'impressione che ho avuto io leggendolo come dire appunto in un momento in cui tu normalmente sei in giro e sei costretto in casa tua le idee girano insomma perché gli argomenti che stai trattando sono tanti sono importanti è un libro che sinceramente consiglio di leggere ma volevo parlare di alcuni punti intanto il titolo il bivio quali sono i punti allora a che bivio siamo quali sono le due strade che a questo punto in qualche modo in qualche modo il covid ci costringe in qualche modo a imboccare perché probabilmente c'è anche questo aspetto che anche tu accenni come dire come la pandemia in qualche modo abbia cambiato tutto e tutti quanti dobbiamo essere pronti a affrontare questa nuova sfida ecco il bivio secondo ti qual è le due strade che abbiamo di fronte quali sono anche qua credo che le schematizzazioni siano preziose la mappa mentale deve essere chiara perché altrimenti siamo un po' storditi dalle troppe stimolazioni che ci circondano poi la televisione i mass media adesso anche internet che sicuramente io giudico positivamente con tutte le riserve anche come insegnante elementare però sicuramente se un tempo oppure se avessimo dovuto fare come anche nel 2001 perché io sono stato a Genova nel giorno tremendo insomma facevamo sostanzialmente c'era già internet ma agivamo ancora con i manifesti con i volantini beh internet ha cambiato per la cittadinanza attiva per i movimenti bottom up i movimenti dal basso ha dato gli strumenti per costruire reti che altrimenti non si sarebbero realizzate ecco da un lato abbiamo un'inerzia gli inglesi nel mondo anglosassone l'inerzia si chiama business as usual no? la parola business almeno a me all'inizio mi portava un po' fuori perché significa affari no? come se ci fosse qualcosa di losco nel business as usual in realtà è fare come sempre abbiamo fatto bene se seguiamo la strada A andiamo a sbattere stiamo sbattendo lo ha detto lo stesso Draghi ieri dalla Grecia lo ha ribadito Biden forse ancora in modo più scioccante di quanto ha detto Draghi ma mi sembra che poi ci aggiungiamo la plastica dei mari la fondazione LM Cartul che insomma è la consulenza dell'ONU afferma che se continuiamo così consegneremo ai ragazzi 10 milioni 9 milioni di tonnellate di plastica dei mari nel 2050 ci sarà più plastica che creature marine negli oceani abbiamo la nostra generazione le nostre generazioni hanno trasformato gli oceani in una discarica l'impronta ecologica se tutti consumassimo come gli australiani ci vorrebbero sei pianeti gli americani ne hanno bisogno solo di cinque noi europei moderati e filosofi in realtà due pianeti e mezzo l'India la Cina l'Indonesia il Brasile stanno copiando il modello questa strada lo dicono i numeri lo dicono i numeri poi si potranno interpretare io faccio sempre questo esempio attenzione in matematica è vero che quattro non necessariamente fa davvero quattro può fare quattro virgola due se arrotondo per eccesso può fare tre virgola otto se arrotondo per difetto però non fa quarantaquattro i numeri ci dicono chiaro noi siamo come un'astronave l'astronave ha una dotazione la nostra dotazione si sta esaurendo e quindi qualcosa deve cambiare non esiste il piano C se il piano A non va bene occorre il piano B è il piano del ritorno alla casa comune è la rivoluzione ecologica a partire da un exit strategy da una strategia di uscita graduale moderatamente veloce io non sono un estremista non siamo idealisti ma molto pragmatici il problema è che la velocità del treno che sta andando a sbattere deve essere ridotta per poi invertire gradualmente la rotta e allora transizione ecologica rivoluzione ecologica mi sembra un'analisi non da scienziati mi sembra che sia nel senso comune che si che si stampa questa questa mappa mentale ma la tua sensazione è che la rivoluzione ecologica sia cominciata perché il problema è un po' questo siamo di fronte a dei grandi cambiamenti che avranno anche delle ricadute nel sociale nell'economia nel lavoro molto pesanti e stiamo anche già sentendo delle come dire delle reazioni a queste cose perché poi per tanti anni si è dato addosso appunto agli ambientalisti ancora recentemente vabbè poi vedremo cingolari ma insomma con questa sua battuta infelice sugli ecologisti quindi la tua sensazione proprio anche alla luce delle cose delle esperienze che tu stai conducendo insomma ti sta dicendo che questa rivoluzione è partita ed è e non tornerà più indietro perché questo è quello che tutto sommato potrebbe esserci a fronte diciamo così della paura di perdere il lavoro di tante persone il campo dell'automobile per dirne una che sarà sicuramente rivoluzionata ci può anche essere il fatto che si si chiudano le frontiere ognuno si chiuda nel suo castello e vabbè e poi il più forte forse vincerà ma questo ne dubito anch'io tu come come la vedi questa abbiamo qualche speranza io nel libro dedico abbastanza spazio a questo aspetto affrontando un tema che spero che vi arrivi perché apparentemente è sfumato non necessariamente i problemi vengono diciamo percepiti come tali diventa fondamentale che i problemi siano percepiti quindi i numeri ci dicono che il problema ecologico è immenso non è detto che sia sufficientemente percepito prima della pandemia quella meravigliosa ragazzina Greta Thunberg aveva riempito fatto riempire le piazze dei ragazzi a cui non si può non voler bene che non sono una forza politica la quale può essere poi sminuita no portavano e portano ancora il cuore nelle piazze per dire così non è possibile poi è arrivato il covid ma il covid se andiamo a vedere ha sviluppato quello che io chiamo il dialogo interiore il self talk e tra l'altro io ho riscoperto che cosa significa la cura alla cura la cura la cura mi ha portato l'importanza della cura mi ha portato a capire la centralità del mondo delle donne perché sono quelle che si prendono cura e quindi la nostra conoscenza se non si prende cura se non si dedica io stesso perché ho vinto tante battaglie insieme ad altri ovviamente perché mi sono dedicato perché mi sono preso cura ecco alla fine di tutto penso sì che la rivoluzione ecologica è in corso e ci sono anche gli elementi strutturali io faccio un esempio non si può continuare a vendere in superstrada i i i ghiaccioli ai pinguini il sistema che abbiamo portato allo zenith con la globalizzazione che è una globalizzazione è stata prevalentemente una globalizzazione economica si fonda sulla vendita iperbolica delle merci ma non si può nel momento in cui i problemi sono altri nel momento in cui tutti tutti hanno chi può la macchina anche all'ultimo grido e gli altri non se lo possono permettere quindi io credo che ci sia il mondo in questo modo il pianeta in questo modo io non credo nella 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 fine drammatica io credo in una lenta agonia nel declino irreversibile della cosiddetta civiltà umana se non subentrerà come io penso che avverrà la rivoluzione ecologica io credo che è l'unica speranza peraltro è una speranza che io nel mio piccolo ovviamente un po' perché giro molto esiste tantissima gente ve lo assicuro non non la vedi non non la senti parlare in tv perché non la cercano ma esiste tantissima gente in gamba persone che fanno opinione nelle loro comunità persone di valore ecco questa gente io credo come voi non è non è per piageria come voi come voi magari apparentemente avremo 50 persone 100 persone speriamo di più che ci seguono però i semi crescono più ne gettiamo e più la probabilità che cresca quella percezione che Jürgen Habermas che è un po' il mio punto di riferimento filosofico che ha studiato come si forma l'opinione pubblica ecco questa percezione promuove l'opinione pubblica il 24 settembre è lo sciopero del clima dei ragazzi del Fridays for Future ecco i ragazzi ritornano in piazza e ci propongono una stazione che è trendy è fashion ormai è inevitabile parlare della priorità della questione ambientale il 26 due giorni dopo si vota in Germania vedremo cosa succede cosa succede ma sicuramente ci sarà un'affermazione dell'ambientalismo politico vedremo in che misura ma sicuramente rilevante quindi la marcia della rivoluzione ecologica è in corso il problema è che i tempi non ci aiutano bisogna la lancetta del business as usual corre in fretta i disastri ambientali stanno accelerando al livello esponenziale ecco questo tema sta andando nella direzione inevitabilmente giusta il punto interrogativo riusciremo ad arrivare in tempo sì questo del tempo è sicuramente uno dei temi più importanti perché c'è una bella frase che ho tratto dal tuo libro che è la conoscenza basata sull'osservazione diventa una sorta di freccia che va a colpire il bersaglio del cambiamento quindi come dire al di là dell'immagine evocativa penso che questa cosa colpisci proprio l'argomento importante quello della conoscenza e la conoscenza come dire è una popolazione che per decenni secondo me è stata in qualche modo obnubilata insomma io ricordo ancora una televisione anni 50 60 in cui ho imparato tantissime cose seguendo quelle trasmissioni che parlavano di storia di filosofia di scienze ecco oggi temo che non sia più così allora questo tema della conoscenza richiede del tempo perché appunto la popolazione si impadronisca di tutte le conoscenze utili per capire le cose che anche tu stai di cui stiamo parlando del cambiamento in atto ecco questo aspetto qui come 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 lo vedi possiamo diciamo accelerare il condivido il flusso di informazioni condivido la tua osservazione tra l'altro voglio dire c'è una complementarietà tra le nostre pur diversissime storie e anche diversi percorsi quindi diciamo probabilmente sia il sottoscritto e tutti voi che avete organizzato e quindi esprimete un bisogno che è il mio bisogno abbiamo molto in comune dal punto di vista antropologico avvertiamo sulla nostra pelle il cambiamento essendo persone di conoscenza a un certo livello tu come scienziato io come attivista che mi ha viste di tanti colori insomma quindi agiamo nel mondo e attorno alle questioni di conoscenza però sappiamo che la conoscenza se non incontra le comunità se non viene sintetizzata anche a livello politico se non incontra i poteri la scintilla scocca ma non si genera quel movimento che porta al cambiamento tra l'altro da questo punto di vista io nel libro cerco anche il problema però il problema va percepito e allora c'è il problema di formare l'opinione pubblica poi il cambiamento non può essere imposto non sono i numeri la gente gli nasconde i numeri quando per esempio la differenza che c'è tra movimento rifiuti zero e movimento diciamo sul riscaldamento globale movimento sul riscaldamento globale che per fortuna ha trovato in Greta Thunberg un'enorme divulgatrice è un movimento di scienziati in qualche modo è percepito in modo elitario invece il discorso dei rifiuti dove metto la carta unta della pizza dove metto il guscio delle cozze dove metto il tetrapack dove metto il bicchierino di estate ti fa capire che tutti noi ci vediamo passare dalle mani questi scarti come dicevi te e allora questo ci fa percepire immediatamente istintivamente parte del problema ma se allora io percepisco il problema è più facile che io mi immagini anche parte della soluzione del problema non basta il cambiamento deve essere reso gradevole non può essere imposto deve essere fashion se arrivi tu sfigato che sei sempre che ti hanno sempre visto nel predicare ma dietro di te non c'è nessuno magari al massimo ti riconoscono l'onore delle armi no? come si dice però magari quando ti vedono cambiano vicolo occorre vincere la mia esperienza è che quando vinci hai un'aura che attrai tutti io dico le stesse cose di prima ma la narrazione lo sai Federico mi ha riempito di gioia scoprire che l'università di Oxford in un libro rivolto ai giovani mi ha inserito ha inserito il mio racconto di Rossano e di Capannori in un capitolo per i ragazzi che imparano inglese come seconda lingua la narrazione è fondamentale non basta la cura bisogna raccontare perché se il tuo se le tue battaglie vengono raccontate da altri perdono l'anima quindi bisogna formare degli attivisti che non solo fanno delle battaglie più delle volte vincenti ma che sappiano raccontare con il loro linguaggio che è il linguaggio dell'autenticità perché non vinci le battaglie se non hai qualcosa di autentico da promuovere deve diventare il racconto della loro storia beh guarda un racconto se riprendo ancora qui una tua frase che mi ha colpito e te la leggo riciclare smartphone e tablet di feni dei gorilla gorilla di montagna insomma a me è forte questa cosa e ti invito a spiegarla perché guarda questa cosa non la segue ma perché vabbè insomma ha questa connessione il tablet da riciclare il gorilla di montagna del Congo se non ricordo male insomma che collegamento c'è e questo ci porta all'altro tema su cui volevo parlare un po' con te questa storia delle viniere urbane insomma che è un altro di quei temi che ci appassiona e su cui volevo anche avere un po' il tuo parere raccontaci un po' com'è che il gorilla di montagna viene salvato se il mio tablet lo riciclo invece di buttarlo dove capita capito beh intanto mi fai capire una volta di più io non sono uno scrittore tutt'al più sono un autore no no questa è la frase quando Garzanti mi chiede di scrivere non bruciamo il futuro io ho detto ragazzi io sono un attivista non sono uno scrittore poi in realtà in realtà no devi mettere in discussione anche i tuoi limiti in realtà siamo molto più plastici no molto più noi stessi tendiamo un po' a irrigidirci quindi di nuovo il self talk il dialogo anteriore beh non mi ricordavo te mi stai leggendo delle frasi che non mi io l'ho scritto e quando scrivo io sono un canso vuol dire che il suo libro l'ho letto eh no quello ti ringrazio no comunque a parte di scherzi è un libro che merita di essere letto ripeto è pienissimo di cose proprio pienissimo e quindi ogni pagina forse merita delle riflessioni può darsi come stile magari non è quello che gli editori insomma gradiscono al 100% però è un libro interessante che merita di essere letto comunque torniamo questa piccola storia sì allora la frase diciamo così io ero fresco di un'esperienza che era derivata dal primo anno di scuola in dad noi abbiamo fatto la didattica a distanza io per un mese non mi sono fatto più sentire da scuola perché mi sembrava al di là di inviare un pochino di compito e dopo invece c'è stato anche per certi aspetti un richiamo critico che ovviamente ho accettato e che poi ha portato un po' tutti all'interno della mia scuola a fare una riflessione e ho detto allora ha senso se coi ragazzi è inutile promuovere una lezione scimmiottare una lezione come di matematica come si fanno le divisioni a due cifre che è davvero un impegno enorme in quarta per i ragazzi delle scuole primarie allora affrontiamo dei temi critici coi ragazzi abbiamo affrontato l'altra faccia la faccia sporca del tablet e dello smartphone allora ho detto rovesciamo cosa c'è dall'altra parte e allora abbiamo scoperto che per realizzare molti dei dispositivi che fanno la felicità anche dei bambini perché ormai i bambini tendono ad essere formati come se fossero dei piccoli adulti qual è l'ultima generazione di smart del tuo papà della tua mamma ed è un problema ma questo riguarda la pedagogia e la didattica che riguardano a loro volta insomma gli uomini e le donne del futuro allora abbiamo abbiamo cominciato a capire ci vogliono degli degli elementi minerali in particolar modo il coltan che cos'è il coltan da cosa deriva il nome dalla colombite dal tantalio dove è prodotto è prodotto in Congo io ho dato un documentario di due giovani giornalisti che si trova su YouTube è bellissimo perché fa vedere i ragazzi vengono proprio selezionati per passare dai fori dalle fessure non ci possono andare gli adulti le donne la guerra civile del Congo e allora ecco perché abbiamo scoperto la figura di Jane Goddall questa grandissima studiosa dei primati che difende le scimmie dalla distruzione perché il coltan viene raccolto in Congo ma deve essere portato in Uganda allora si vogliono realizzare delle autostrade che porterebbero alla distruzione delle foreste primarie dove ci sono i gorilla ecco perché allora con la fondazione Goddall che ha un'articolazione italiana si possono raccogliere nelle scuole gli smartphone vecchi e altri dispositivi elettrici ed elettronici e inviarli in modo che ci sia sempre meno bisogno di questo coltan e delle terre rare ma forse delle terre rare ne parleremo qualcosa mi dice tra poco no no volevo perché vabbè il tema era questo delle miniere urbane un altro termine che anche non so quanto conosciuto che si abbina all'altro tema che sta girando dell'economia circolare adesso come diciamo siamo in un periodo singolare lo sto notando come anche dalla pubblicità di tutti i giorni si stanno introducendo questi temi legati appunto al riciclo al recupero alla green economy e quant'altro e uno di questi è l'economia circolare che si distingue ovviamente all'economia lineare che è quella che produce questa quantità enorme di rifiuti chiamiamo pure così insomma che vanno poi a creare tutta una serie di altri problemi ecco la domanda era allora tanto se l'economia circolare come tale effettivamente è partita e se anche questo come dire un movimento che tu percepisci irreversibile insomma la società dei consumi sta morendo possiamo dirlo e ci sarà questa società che stiamo costruendo e quei 300 e passa comuni di cui ci dati prima ne fanno in qualche modo parte le 7 milioni di italiani che stanno appunto separando con coscienza tutte queste va la carta dalla plastica piuttosto che l'alluminio e così via le miniere urbane però richiedono poi come dire anche delle attività produttive che siano in grado di recuperare appunto questi metalli preziosi che sono presenti anche nel tablet e quant'altro e lì ci vuole come dire una nuova attività produttiva nuovi finanziamenti che vadano in questo settore ecco in Italia c'è qualcosa che sta succedendo in questo campo anche qui è tanto verniciatura verde tanto perché sono arrivati un bel po' di soldi comunque ne parleremo per da investire e tutti pensano che si possa continuare come prima senza che quindi tutto deve cambiare perché non cambi nulla insomma la sensazione è che siamo in questa situazione qui la tua riflessione sì diciamo sì e no ecco certamente il percorso intrapreso dall'Europa è irreversibile dal punto di vista mi permetto di usare parole pesanti strategico perché per un motivo non ecologico ma per un motivo macroeconomico l'Europa non ha risorse primarie o comunque non comparabili ad altri ad altri continenti ad altri paesi che dopo non a caso citerremo e l'unico modo per estrarre soprattutto i metalli perché in realtà noi non abbiamo significative scorte di materiali nell'epoca che gli analisti definiscono di epoca di raw material scarcity cioè scarsità delle materie prime quando la competizione globale dei colossi si è ampliata con l'India la Cina il Brasile e l'accaparramento delle vedremo che l'accaparramento soprattutto dei metalli preziosi è molto problematico però l'Europa e l'Italia è il secondo paese in questo senso ha una poderosa industria manifatturiera come rimanere sul mercato attraverso l'estrazione delle materie prime dal cassonetto ecco che allora ecologia ed economia in Europa è l'unico continente dove ecologia ed economia si sono incontrati negli altri continenti non c'è questa simbiosi questa consapevolezza ed è sicuramente importante che sia l'economia che motivi la necessità di ridurre gli sprechi e di orientare il recupero diciamo delle eccedenze e degli scarti nella direzione di ripristinarli all'interno dei cicli produttivi sia agronomici quando si parla di scarti di cibo e di scarti organici sia manifatturieri quando si parla di metalli si parla di mascero di carta straccia quando si parla di polimeri plastici quando si parla di vetro quando si parla di legno e così via quindi l'Europa non tornerà indietro non può farlo il 90 poi affrontiamo il tema delle terre rare questo 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 elenco di 17 minerali che del 1800 sono stati diciamo così inseriti all'interno della tavola chimica sono indispensabili per la rivoluzione industriale 4.0 se non hai la disponibilità delle terre rare le marmitte catalitiche gli armamenti i pannelli sorari gli smartphone tutta l'industria attuale dove c'è una competizione ferocissima ha bisogno di questi materiali il 90% è a livello di disponibilità commerciale è concentrato nelle mani della Cina che dispone del 75% dei giacimenti naturali poi la seconda è l'Australia la terza è il Brasile poi c'è il Congo e così via l'Europa non ne ha ma ha i dispositivi elettrici ed elettronici l'Italia qui che è prima tra i paesi oxe nell'economia circolare è seconda nell'industria del riciclo e nella percentuale di raccolta differenziata noi siamo subito dopo la Germania abbiamo il 61,38% vicinissima al 65% su scala nazionale di raccolta differenziata è la prima dei paesi più industrializzati nell'economia circolare beh però sul piano dell'estrazione dell'oro dell'argento del rame dell'alluminio che stanno esaurendosi delle terre rare non ha fatto niente non esistono in Italia piattaforme significative che estraggono le terre rare quando i nostri frigoriferi quando le nostre lavastoviglie quando i nostri elettrodomestici che pensate una lavatrice contiene mezzo chilo di rame contiene un motorino che costa praticamente è il core business diciamo così è il cuore del dispositivo che il mio amico Claudio Tedeschi che dispone che è il proprietario di Rismeco dice io sono costretto a vendere i motorini a 3 euro alla Cina ma questi motorini costano 150 euro potrebbero essere venduti come motorini come parte funzionali usate potrebbero essere diciamo messi a disposizione a 30 50 euro ma sicuramente questi mezzo chilo di rame mezzo chilo di alluminio sono preziosissimi in questo momento non ci sono noi quando siamo stati convocati per l'audizione alla camera sul piano nazionale di ripresa e resilienza il cosiddetto recovery fund ho fatto mettere agli atti che noi proponiamo almeno due piattaforme per regione che estraggono i metalli di pregio dai dispositivi elettrici elettronici è questa la strada e purtroppo tutti parlano di economia ma io rimango pazito che su questo fronte non ci sia una presa di coscienza c'era Deng Xiaoping che per un po' è stato il primo il presidente del partito figura potentissima il partito comunista cinese che col suo sorrisino diceva gli arabi hanno il petrolio la Cina ha le terre rare le terre rare sono il nuovo petrolio sono il nuovo petrolio come si fa a livello macroeconomico a non capirlo di nuovo l'ecologia e l'economia che si incontrano si devono coordinare questa è l'autostrada del futuro senti Rossano ci avviamo in qualche modo a chiudere perché poi vediamo se ci sono delle domande però quello che tu hai evidenziato secondo me mette appunto in evidenza un problema fondamentale che è la carenza della classe politica perché appunto come dicevi tu c'è bisogno di recuperare questi metalli più o meno preziosi e in Liguria il nostro presidente Totti nel piano ha tentato di avere dei finanziamenti per poter chiudere come dice lui il ciclo dei rifiuti con quello che abbiamo capito è un inceneritore che poi produrrà forse idrogeno non sappiamo bene in quale modo ecco questo come dire è facendo anche passare in questo modo come economia circolare con queste abilità che nel nostro paese è molto ampia allora poi possiamo anche dire un altro tema perché tu proprio l'altro giorno hai chiesto le dimissioni del ministro Cingolani quindi il ministro della transizione ecologica che come dire posannato da tanti che però quando vedo non solo tu sta come dire in qualche modo facendo scelte o perlomeno danno indicazioni di scelte che non vanno nella linea delle cose di cui abbiamo parlato anche stasera ma e dunque ci sono due livelli che dobbiamo cercare il più possibile per responsabilità di non confondere cioè il livello emotivo che ti indigna è invece il modello che ci deve guidare quello di il tempo in galantuomo il tempo e la qualità delle informazioni e dei saperi di cui disponiamo noi non non abbiamo penso anche voi quella fatica che stiamo piacevole peraltro l'energia che stiamo impegnando oggi non è certo finalizzata a mettere in mostra o a mettersi in mostra per un vano per un vano ecocentrismo quindi noi dobbiamo riprendere il discorso che l'Europa sottolinea e dice attenzione il business as usual tende a bloccare lo sviluppo dell'economia circolare cioè il fare come sempre l'abitudine anche noi abbiamo delle abitudini quando prima io dicevo ma io non sono uno scrittore mi sono dovuto un po' rigenerare e quindi nell'opportunismo mi bloccava diciamo così nell'aprire un nuovo sono rimasto ho detto non sono comunque lo scrittore però ho dovuto mettermi in gioco quindi il business as usual comunque esiste esiste non è di per sé un peccato mortale lo dobbiamo sconfiggere attraverso l'entusiasmo delle buone pratiche l'economia circolare libera Pascoli dal punto di vista economico è assolutamente all'ordine del giorno in senso di sostenibilità ambientale dal punto di vista ecologico quella è la strada e l'Europa non torna indietro non torna indietro assolutamente perché quando tu facevi giustamente riferimento perché poi si parla di grandi questioni ma poi bisogna vedere dove noi mettiamo i piedi in concreto parlavi della Liguria ma per carità non ce ne voglia Toti i suoi colleghi in giro per l'Italia molti hanno fatto lo stesso cercano di piazzarci di piazzarci tutto in quel PNRR Piano Nazionale di Ripesa e Resilienza però questo anche per non tanto per per citarmi insomma ho avuto l'opportunità di fare un incontro con il commissario europeo all'ambiente ha ribadito che la termovalorizzazione l'idrogeno blu è stato cassato dal PNRR italiano non l'hanno mica detto l'idrogeno blu è quello attraverso il quale si mira a produrre idrogeno dai rifiuti o comunque da scarti o da plastiche oppure la produzione di metanolo ci sono molti progetti di Eni in quella direzione l'Europa è stata chiara va a cozzare l'articolato che anche l'Italia ha recepito di sviluppo dell'economia circolare ingessa i sistemi li riporta sulla strada della linearità quando come dicevi tu noi dobbiamo andare nella strada della circolarità anche questo ormai è un percorso tracciato il problema è che noi perdiamo tempo mentre noi parliamo con questa chiarezza e stiamo no lì cerchiamo di schematizzare per far capire per divulgare questo percorso i decisori politici e la classe dirigente che non è solo la politica sono gli imprenditori che sono importanti sono i mass coloro che fanno danno il là sui mass media la classe dirigente non è all'altezza e allora occorre davvero occorre che siamo noi se non lo fa nessuno vuol dire che noi dobbiamo pedalare di più perché non c'è nessuno che svolgerà questo compito al nostro posto è una sfida è una sfida è faticosa ma è anche esaltante se ci piace la democrazia questo è il momento di dimostrarlo questa è proprio la democrazia quella vera come si dice nel film nel finale bellezza per finire questa parte poi passiamo alle domande allora insieme perché poi in qualche modo una domanda l'ho data anch'io nel 2013 80.000 firme portano al Parlamento la legge rifiuti zero che in qualche modo è innovativa parte anche l'Italia parlamentare del 2015 poi non se ne parla più nulla e vedo che anche tu come dire nei tuoi documenti non ne parli anche se sei stato un protagonista di questa storia ecco che è successo insomma cosa è successo come dire era una legge che a questo punto è invecchiata e non serve più oppure appunto la dimostrazione che abbiamo una classe politica non all'altezza dei problemi che dobbiamo affrontare noi noi quando abbiamo avuto gli incontri con il ministro Costa con le commissioni varie volte abbiamo cercato di riproporre e dall'altra parte con gli interlocutori non c'è stata difficoltà a far capire l'importanza il problema io quando all'inizio parlavo facevo una riflessione su come stiamo vincendo sui comuni rifiuti zero ovviamente non vuol dire non semplifichiamo che tutto va bene ci sono zone d'ombra ecco per carità di Dio non dobbiamo illudere e semplificare però abbiamo vinto perché abbiamo orizzontalizzato abbiamo noi sui territori siamo fortissimi ma quando verticalizziamo in Parlamento la nostra voce si perde nei parlamenti regionali si perde di meno ma arriva molto più sfocata di come invece arriva stentoria sui territori ecco e quindi forse è stata una grande stagione in cui 80.000 firme che significa forse averne raccolte anche 90.000 perché poi alcune non sono state convalidate è stato un momento di divulgazione importantissimo che ha impegnato anche istituzionalmente ha ricordato agli semplici cittadini come noi che noi stessi abbiamo potere legislativo dal basso però poi l'inerzia forte che abbiamo dato non è bastata ma questo io me lo aspettavo non è bastata in questo gioco di verticalizzazione io avevo anche esortato a maggiore moderazione prima di partire fare anche delle ponderazioni poi però quando si parte si parte e si deve essere tutti dalla stessa parte e ci siamo saliti insieme è stato comunque un successo però però per ritornare alla carica forse agire di più far pesare mettere sul tavolo della bilancia noi stiamo lavorando per costruire una piccola ANCI un'associazione nazionale dei comuni rifiuti zero che vada a parlare con i ministri in questo modo costruiamo anche condizioni migliori per una verticalizzazione di un conflitto propositivo perché noi abbiamo visto che la nostra credibilità l'abbiamo derivata da un comportamento che si è caratterizzato soprattutto da questo punto di vista non abbiamo solo detto no no agli inceneritori no ai trattamenti termici ma il problema esiste come vogliamo risolverlo e abbiamo avanzato le nostre proposte la stagione della legge di proposta di iniziativa popolare è stato un esercizio anche un'incursione sul fronte della legiferazione ci siamo anche proposti come diciamo legislatori grazie Rossano mettiamo noi sappiamo nel nostro DNA al momento opportuno ritorneremo alla carica bene a questo punto se ci sono domande ho visto che nelle chat non sono stati interventi non siamo in tantissimi però io penso che gli argomenti che Rossano ci ha trattato meritano comunque eventualmente una riflessione qualche domanda qualche intervento dei partecipanti nessuno Enzo c'è Bruno qualcuno che voleva parlare forse Bruno sì grazie allora diamo la parola a Bruno Piotti poi Enzo se vuole intervenire grazie a molte con molta energia come hai detto e con molto vigore hai illustrato questo aspetto dell'economia circolare e io sono convinto che appunto è un passaggio fondamentale obbligatorio quello che non mi è chiaro è in questa dinamica che si è aperta sull'idrogeno nonostante che ovviamente tu non sei un ingegnere non hai forse una competenza specifica su questo su questo aspetto però mi pare che sia molto importante capire questa questione sulla quale appunto facendo delle scelte apparentemente verdi ma poi in sostanza riconfermando il passato non ci si dice come arriviamo ad avere l'idrogeno come un elemento di stoccaggio fondamentale l'idrogeno verde ma si continua a parlare di altri idrogeni che quindi poi alla fin fine potrebbero essere semplicemente la rimessa in campo che ne so del gas metano o la centralità degli inceneritori come vedi come vedi questo che tipo di chiarezza bisogna fare secondo te tra gli attivisti prima di tutto e poi ancora di più rispetto alle autorità locali che tu giustamente metti strategicamente al centro cioè bisogna accerchiare le grandi lobby e i grandi centri urbani con una quantità e ne abbiamo l'Italia ha più di 8 mila comuni quindi indubbiamente accerchiare i grandi comuni con i piccoli comuni in Italia sarebbe secondo me una bella tattica che ci può portare bene però che cosa andiamo a dire a questi amministratori rispetto a questa questione del passaggio dell'idrogeno dunque il problema della transizione energetica lì ci sono alcuni caposaldi che devono far parte della nostra bussola io dico poche cose ma come nella bussola ci sono quattro punti di riferimento se possiamo mettiamone anche solo tre perché altrimenti troppi elementi troppi messaggi nessun messaggio quindi bisogna essere molto le mappe mentali sono decisive allora intanto è fuori discussione che noi non possiamo con le energie rinnovabili coprire i fabbisogni di una società usegetta bisogna ridurre il fabbisogno energetico perché se qualcuno crede che noi possiamo fare le stesse cose cretine in buona parte con le energie alternative credo che sia fuoristrada è chiaro poi qui subento un secondo aspetto io lo dicevo prima cercavo anche di dirlo in modo più o meno simpatico attenzione Eni e i grandi le grandi lobby legittimamente ma non è che appunto bisogna sollevare la categoria della cattiveria della corruzione poi se sono documentate spesso ci sono episodi di quel genere devono essere ben sottolineati però in linea di massima il business as usual ha la coazione a ripetere di cambiare tutto perché non cambi niente ma questo è normale noi non ci dobbiamo stupire noi che siamo attivisti che vediamo dagli antipodi vediamo l'Italia dalla Nuova Zelanda dall'altra parte del mondo per certi aspetti ci muoviamo in modo diciamo antipodiano rispetto rispetto a queste lobby è chiaro che loro ci provano è inevitabile che ci provino e quindi che cosa la riconversione oggettivamente non è una passeggiata nemmeno per noi come si fa a riconvertire le industrie siderurgiche come si fa a riconvertire diciamo così eni e colossi del genere la sfida è anche per noi non è che si risolve col fumo dell'ideologia loro sono cattivi e noi siamo buoni noi bisogna avere proposte di risposta in termini di governance cosa facciamo loro i tiari ci provano loro hanno il core business sullo smaltimento dei rifiuti ora Eni ha un panorama diciamo di business molto articolato ma per dire quello che sta facendo hanno impianti da bonificare e quindi vogliono continuare come prima e ci mettono in mezzo la produzione di idrogeno che tecnicamente è possibile però da fonti sporche quindi dai rifiuti quindi comunque da combustibili diciamo come il metano come il petrolio e gli stoccaggi Ravenna e quant'altro quindi non bisogna dire occorre ridurre i fabbisogni energetici sviluppare le energie rinnovabili bloccare gli sprechi non solo di energia ma anche di energia incorporata nei prodotti quindi nella materia e negli items e poi l'idrogeno è uno dei vettori energetici alternativi fondamentali ma come dice l'Europa vi ripeto ha cassato ditelo a Toti ci avevano provato e non solo lui che non va a demonizzare a metterci l'idrogeno blu ma l'Europa ha detto no e c'è un dibattito accesissimo sul chemical recycling cioè su questa nuova perché poi ci sono le public relations che usano la comunicazione come gli schermitori per far vincere la loro ragione usano la retorica il linguaggio della pubblicità che Umberto Eco aveva smascherato dicendo che la pubblicità usa gli stessi trucchi della retorica medievale io voglio far vincere la mia ragione ma oggi in ballo non c'è far vincere la tua ragione o vinciamo tutti o perdiamo tutti devono vincere le ragioni che garantiscono che sia rimanga aperta la strada verso il futuro e allora da questo punto di vista c'è l'idrogeno c'è il vento c'è il solare ma c'è soprattutto ridurre i consumi aumentare il livello di gratificazione delle persone la felicità delle persone in termini relazionali diminuendo tirando la coperta scoprendo meno consumi che non significa tornare all'età della pietra oppure che saremo tutti eh privi di possibilità di consumare consumeremo in modo più attento la progettazione industriale l'uomo produceva il bicchierino del succo di frutta in polistirene che è una plastica che non si riduce che non si ricicla oggi lo produce in carta voglio dire il business più attento le stesse multinazionali sono molto attenti al marketing sono vulnerabili è il momento in cui noi possiamo inserire i nostri messaggi ecologici dimostrando io ho incontrato dirigenti di A2A delle multi utilities di ERA e ho detto guardate che noi non vogliamo mica la vostra chiusura date lavoro a un sacco di persone solo che voi gradualmente dovete ricollocare il vostro core business ora l'avete sullo smaltimento dei rifiuti lo dovete spostare sulla valorizzazione e l'intercettazione delle materie prime alla luce della economia circolare che l'Europa spinge quindi noi bisogna dare risposte di governance è la sfida noi non possiamo stare sull'albero il ruolo degli attivisti non è quello di alzare l'asticella noi siamo in gioco e quindi se loro non sono in grado di avanzare proposte soluzioni all'altezza della situazione dobbiamo estrarre il meglio da noi tutti insieme per dire noi diciamo no a questo per fare per andare in questa direzione C'è Renzo? Se Renzo vuol parlare deve aprire il microfono poi c'è Anna Lazzarotto che si è prenotata Microfono Enzo Microfono Allora eccoci mi sentite? Sì sì a posto volevo dire ma di idrogeno se non è un discorso per l'immagazzinamento dell'energia non ha senso mi serve per immagazzinare le energie rinnovabili che sono variabili nel tempo se no non vedo perché ricorrere all'idrogeno non ha nessuna nessuna logica perché è un processo tendenzialmente sono dei processi capisco che con le rinnovabili diventa ancora più dispendioso comunque non è che costi zero cioè molti hanno già dimostrato che trasportare idrogeno non ha senso sulle lunghe distanze ha delle perdite tali che non ha un grosso significato comunque l'osservazione che in voi ci volevo fare prima era un'altra il Cingolani è un robotico o un informatico io ci volevo un energetico perché non ora qui tutto quanto è informatica becchiamoci quello che capita allora non ci sono qua a Genova c'è il professor Massardo che è una cattedra europea sull'energetica sono andati a pescare Cingolani che ha lavorato all'IT e all'Eonaut quindi mi è parsa fin dall'inizio una scelta sbagliata poi una terza cosa che invece volevo dire ma nessuno sta mettendo sotto accusa il fatto che per le navi si usi il GNL si tende a usare il GNL il gas naturale che fa allora una nave cioè abbiamo delle navi che hanno 45 anni di vita una nave ha tendenzialmente proprio perché si sfrutta di più ha una vita che è quasi superiore anzi è senz'altro superiore a quelle delle centrali e nessuno dei diciamo dei verdi verdi o ambientalisti dice niente contro il GNL usato su l'imbarcazione probabilmente perché adesso stanno bruciando marmellata questo quindi il minore dei mali però bisogna vederlo in un ambito un po' più globale secondo me scusate che se ho fatto uno sproloquio più che una domanda no mi sembrava appunto un'osservazione articolata quindi però io infatti non ho voluto minimizzare ma neanche empatizzare è uno dei vettori l'idrogeno non è che noi e poi soprattutto non è che non concordo capito lo spirito del del di Enzo precedentemente quando ha fatto una critica diciamo così eh proporzionale tra virgolette ci voleva cingolani informatico e un esperto di energia beh anche io questa visione che si possa far tutto con le energie rinnovabili è forbiante e forse anche questa frase lo riflette il problema è la transizione ecologica la transizione energetica è un segmento della linea più complessiva della transizione che evitiamo la transizione vuol dire che te in modo anche moderato riformista introduci elementi di uscita graduale non se oggi è l'inceneritore non lo chiudi oggi però lavori per chiuderlo magari dopo domani magari tra un anno e lo stesso noi bisogna ridurre i fabbisogni energetici perché altrimenti non non è possibile mantenere un livello di prelievo no oggi va molto di di ancora diciamo è una parola chiave l'impronta ecologica ma questa parola chiave impronta ecologica è supportata da un nuovo termine che è il prelievo i nostri prelievi devono essere in grado di riportarci ad una situazione pre-crisi ecologica globale e quindi il problema è che noi bisogna ridurre i consumi di energia ma di materia perché abbiamo parlato della raw material scarsi poi è anche vero noi stessi non a caso anche io giro quindi conosco anche le tipologie noi stessi ci scandalizziamo ma quando Draghi ha scelto il suo palmaresse di persone l'ha preso dai tecnocrati e i tecnocrati sono quelli che poi non si va mica a vedere i curricula o i curriculum si va a vedere la vicinanza per cui mica si è fatto chi crede che questo è il governo dei migliori questo non vuol dire che sia da sparare su tutto ovviamente però noi stessi mi sorprende che crediamo nella loro narrazione ecco l'importanza della narrazione ma ce l'abbiamo la capacità di narrare di raccontare quello che sta facendo perché altrimenti noi parliamo quello che loro dicono lo usiamo nel nostro stesso linguaggio e siamo subalterni in questo modo non si vince ecco perché poi noi siamo allora aumentiamo il livello della critica diventiamo ipercritica e poi poi ci rifugiamo io ho ragione nell'estremismo nel settarismo ma per definizione questa è la tomba del cambiamento quindi noi bisogna saperne una più di loro bisogna avere più coscienza e conoscenza ovviamente il tutto spinto dalla passione civica da quella democrazia dal basso che è quella che spinge ed è uno dei motivi per cui il rifiuti zero non è l'unico tassello della rivoluzione ecologica ma sicuramente è uno Paul Condit lo chiama lo springboard il trampolino di lancio perché ci permette di partire dal guscio delle cozze e per parlare delle terre rare e dell'economia circolare e del valore strategico del reperimento delle materie prime perché se vi guardate intorno quali sono oggi sta andando così la politica internazionale è fatta di paesi non paesi quali sono i paesi non paesi quelli che non hanno una governabilità guarda calo sono quei paesi che sono il loro sottosuolo ha un patrimonio di materie prime strategico la Libia l'Iraq la Siria la Faganista è ricchissimo di terre rare il Congo non ne parliamo ma neanche neanche gli attivisti tirano in ballo la questione del Congo perché forse siamo troppo versati nel telefonino tutti lì lì io siccome l'ho perso non lo compro tutti mi protestano Rossano ma non hai Whatsapp Rossano compra il telefonino voglio dire ma noi siamo parte del problema e spesso psicologicamente scatta il meccanismo io sono critico e quindi ergo sono fuori da quello che sta invadendo non è vero questo è un alibi nel libro io nel mio piccolo supero il marxismo supero il marxismo questa visione noi di qua e loro di là no tutte le culture politiche hanno concepito il pianeta come un grande supermercato da cui prelevare occorre cambiare la rivoluzione ecologica non ha più una classe che libererà le altre classi noi è una sfida io l'ho paragonata di nuovo nel libro me la immagino magari si potrà dire che immaginifica ma per dare un contorno a quello che immagino un po' come quando prima che la preistoria diventasse storia ci fu lo scontro tra le popolazioni nomadi e le popolazioni sedentarie io credo che ci sarà uno scontro non necessariamente me lo auguro non violento ma uno scontro feroce a livello di argomenti tra coloro che coerentemente ritengono che la politica debba assumere la centralità ambientale e gli altri che pur non potendo disconoscere l'importanza della questione ambientale continueranno nel segno del business as usual allora ma quelli perdono il lavoro ma quella certo la questione ambientale non vuol dire che l'approccio è olistico no sul pianeta non è che l'Argentina non c'entra nulla con Genova no tra l'altro città portuale quindi per definizione è parte del mondo però voglio dire oggi le questioni sono correlatissime connesse e marciano sempre più al tempo dell'impulso elettrico quindi noi attivisti perché nessuno lo farà al nostro posto dobbiamo essere dei grandi teorici e delle persone che sanno mettere sanno fare la mossa giusta perché la partita si gioca anche a scacchi e spesso invece vedo il tentativo di percorrere la strada emotiva la semplificazione alla fine quelli sono cattivi Rossano ma noi non ce la faremo mai non funziona così anche noi dobbiamo metterci in gioco io ho 66 anni è una no ma abbiamo moltissimo da dire col movimento dei ragazzi di Greta nel 24 io andrò alla manifestazione alle manifestazioni che ci saranno ma il mio atteggiamento lo dico quando mi chiamano voi andate avanti avete il diritto di sbagliare gli adulti devono stare un passo indietro però se voi ci chiederete le cose noi ve le diremo vi consegneremo il nostro consiglio ma non in modo paternalistico e quindi autoritario è fondamentale nel come noi ci proponiamo all'interno della rivoluzione ecologica noi dobbiamo essere dei facilitatori nel libro a un certo punto dico ma io chi sono cosa ho fatto ho facilitato io ho facilitato ho levato le barriere che ostruivano la comunicazione ho messo come un ponte girevole in contatto colui che voleva dei dei saperi chimici sulla chimica con il chimico colui che voleva affrontare il problema biologico con i biologi colui che voleva riciclare la frazione organica con l'adronomo il facilitatore noi dobbiamo facilitare la comunicazione la prima rivoluzione che va fatta è l'ecologia della comunicazione circolarità della comunicazione è fondamentale è fondamentale mi fermo qui perché avrei un episodio ieri sono stato online ero in una trasmissione organizzata circonomia ad Alba c'era una giornalista del del Corriere della Sera che moderava da vergognarsi questi usano ma la termo la termovalorizzazione non sanno le cose ripetono sempre gli stessi mantra per cui fondamentalmente sono lì e questo è un problema grosso sono i tappi che bloccano la società civile io ai ragazzi dico cosa dobbiamo fare avete presente la fiaba del genio della bottiglia il genio viene messo dentro la bottiglia non bisogna agitare le bollicine della bottiglia perché saltino i tappi quello che noi che gli attivisti devono fare scusate ma mi sento di dividere sapevo che Rossano si sarebbe fatto prendere c'è Anna che vuol fare una domanda passiamo a Anna e poi chiudiamo Anna tocca a te allora non è Anna ma scusa sono Antonio perché questo collegamento vale per due perché ci siamo insieme io e Anna a ascoltare prego allora io vabbè volevo ringraziare Colini per il suo il suo contributo oggi per anche l'ultimo intervento quando ha ribadito la necessità la necessità di ridurre i consumi per ridurre l'impronta ecologica e per avere per avere un futuro mi sembrava interessante il discorso che faceva durante la sua esposizione del vantaggio del trovare il vantaggio economico da per esempio dal recupero delle terre rare o cose di questo genere io devo dire che sono un pochettino meno ottimista di quanto non dice lui perché io ho visto il documentario sull'estrazione del coltan in Congo di cui probabilmente forse lo stesso quella di cui parlava il problema è che oggi è siccome c'è lo sfruttamento della mano d'opera c'è lo sfruttamento del terzo mondo c'erano quei bambini che facevano la coda per essere assunti e andare in quei buchi larghi soltanto la coda per infilarsi allora fin quando c'è questa situazione è economicamente più vantaggioso il fatto di acquisire il coltan dal Congo piuttosto che recuperarlo dai nostri telefonini allora io credo che il richiamo alla responsabilità individuale sia fondamentale però noi dobbiamo trovare veramente cioè non c'è soltanto un discorso di vantaggio economico c'è proprio il discorso di una scelta di campo di una scelta di campo per un futuro e quindi se volete ha anche un risvolto economico ma un risvolto economico di lunga durata oggi rinunciare ai SUV rinunciare all'ultimo modello del telefonino è una scelta di carattere di carattere ideologico più che di carattere più che di carattere economico volevo dire due cose molto semplici uno quando diceva Enzo Tortello del discorso di Cingolani il problema non è essere informatici o essere ingegneri è essere dei bravi politici dei politici che si fanno carico che si prendono cura come diceva Ercolini del futuro dell'umanità e fanno delle scelte la seconda cosa è che bisogna anche capire per che cosa si vuole recuperare le terre rare un passaggio che faceva Ercolini sugli armamenti io lo condivido poco insomma mi va benissimo recuperare le terre rare per avere diciamo del rame o che cosa ma non certamente perché l'industria degli armamenti possa essere appartaggiata comunque grazie a Ercolini ma se allora attenzione io ribadisco il cambiamento deve essere desiderabile perché altrimenti vuol dire io mi guardo allo specchio vuol dire che noi comunque accettiamo la nicchia ecologica in cui noi che vorremmo il cambiamento però il cambiamento non può avvenire quindi il cambiamento e quali sono i cambiamenti sono quelli che intercettano la stragrande maggioranza della umanità e che cosa unisce l'umanità la necessità di essere parte di un mondo economico quindi è inutile che io magari sia una bella anima esiste il mondo delle belle anime ma sarà il 3% delle persone quindi per carità le idee le persone più motivate probabilmente noi mi ci metto anch'io ovviamente però se non riusciamo a rendere desiderabile quindi a dimostrare che sono gli interessi universali che si identificano in quel tipo di percorso noi vuol dire che abbiamo già accettato di perdere ed ecco perché tanti attivisti alla domanda ma te quante battaglie vinte ah io una io nessune ecco dobbiamo vincere e di nuovo la domanda va non su di voi o su di noi che siamo qui ma su di noi mondo che cerca sappiamo di essere una minoranza ma non siamo minoritari di cambiare il mondo di cambiare il mondo che è anche una cosa bellissima oltre che onorevole attenzione non è vero non è vero che il problema dell'Italia non ha fatto investimenti ci sono le multinazionali le poche piattaforme che estraggono le terre rare sono multinazionali noi non abbiamo un'industria come le cartiere invece che è endogena non è ancora in mano diciamo alle multinazionali quindi noi tra l'altro non dobbiamo estrarre noi dobbiamo estrarre dai RAE l'Europa l'ha detto con l'economia circolare nel 2011 ha promosso un paper uno studio in cui affermava l'Europa uscirà dalla crisi quando saprà promuovere una moderna industria del riciclo e pensava prima di tutto ai metalli noi abbiamo dei consorsi quello dei è più tecnico il riferimento quindi mi scuso ma è anche giustamente la domanda e l'osservazione che sarà fatta è molto intelligente molto acuta ed è stimolante insomma noi noi abbiamo abbiamo un un quadro spezzettato del consorzio del del che afferisce ai rifiuti elettrici elettronici sono 30 30 i consorsi voi probabilmente i più avvertiti conoscono Remedia che è il secondo per importanza e in Italia si recupera a malapena il ferro e l'acciaio avviene una triturazione come si fa per le macchine in disuso che si portano a dal cosiddetto sfattino e si recupera alla meglio il ferro e l'acciaio bypassando assolutamente il resto cioè gli studi in Italia ce n'è uno del Politecnico finanziato da Remedia che dimostra i vantaggi economici enormi certo che occorre mettere in campo investimenti per le tecnologie adeguate ma voglio dire è vero che la Cina batte l'Australia che è il secondo paese perché nel libro ve lo dico prima che scoppiasse il Covid è scoppiata la guerra commerciale sulla Cina non ce l'ha mica detto in Italia che è scoppiata sulle terre rare perché la Cina voleva un aumento delle tasse di importazione per gli Stati Uniti del 25% allora il Pentagono perché queste terre rare servono agli armamenti certo che dovrebbero servire alla pace e servono anche alla pace ovviamente ma sono utilizzati anche per i dispositivi informatici di cui i droni i missili eccetera eccetera questo apriamo porte aperte con quello che ha detto l'amico di prima ecco perché ha detto apriamo in Australia vediamo se dall'Australia arrivano flussi equivalenti ma i costi non tengono perché lo sfruttamento della mano d'opera la sindacalizzazione dei contesti comunque filo occidentali dell'Australia presentano riservano costi molto più elevati ma se noi il loco invece di tirar via invece di rottamare i televisori di nuovo la coazione a ripetere io dico basta rottamare cominciamo a riparare allungare il ciclo di vita dei prodotti estraiamo come fa di smeco ma di smeco di marzabotto dell'amico Claudio Tedeschi che è un industriale della confindustria che è uno zero waster è un amico di zero waste un attivista di zero waste ed è un industriale non è Rossano Ercolini estrae quel mezzo chilo di rame e l'alluminio e le terre rare dai piccoli rai dai neon dal vetro al neon che contengono determinate tipologie di terre rare eppure lui riesce a stare bene sul mercato ma lo si isola ed era di Bologna invece di portare a lui dispositivi elettrici elettronici li porta in valtellina li porta c'è una distorsione che noi dobbiamo proprio in nome dell'economia circolare ora o mai più correggere quindi attenzione perché sono queste le frontiere che ci fanno capire la differenza se davvero è possibile vincere o se invece è la vecchia pratica del lamento tanto poi andiamo a casa siamo stati critici abbiamo risolto il problema la critica non può essere una patologia ma deve essere la terapia la nostra io sono illuminista parlavo prima del marzismo eccetera come ti definiresti illuminista la critica deve essere l'applicazione terapeutica della cura perché il sistema sia risanato non può essere uno sfogo non può essere aggiungere patologia alla patologia quindi di nuovo anche noi mettiamoci in gioco i sistemi naturali si devono rigenerare credo che per il ruolo che noi stiamo assumendo non solo zero waste ma per coloro che sono più consapevoli mediamente degli altri noi abbiamo l'imperativo di rigenerarsi in modo più accelerato di quanto invece i sistemi interni al business as usual stiano facendo ed è normale perché la tradizione per definizione ha difficoltà a rigenerarsi l'innovazione e la rivoluzione invece dovrebbero avere un metabolismo di comprensione estremamente più accelerato e abbiamo detto che la questione dei tempi è centrale io credo che abbiamo una grossa responsabilità di formazione anche dell'attivista certo perché ormai appunto come tu dici nel libro come hai detto non basta più emotivamente sentirsi contro ma bisogna avere delle informazioni proprio non basta più dire no ma bisogna dire no perché e non è facile su tante cose ormai ci vogliono competenze che forse il nostro ruolo non so come Zenzero come associazioni è anche quello di formare le persone assolutamente sì io sono assolutamente d'accordo appunto è stato trattato questo tema della formazione degli attivisti che anche questo è importante però io a questo punto vorrevo ringraziare e chiudere questo primo incontro che è stato veramente molto interessante quindi ringrazio Rossano perché mi aspettavo ripeto tutta la sua come dire verve il coinvolgimento insomma la sua passione perché poi così è nelle cose che fa e quindi che saranno sicuramente d'aiuto anche a noi e quindi ringrazio Rossano forse potremmo anche risentirci tra un po' se tu sei d'accordo magari approfondiamo qualche specifico tema delle cose che hai trattato volevo ringraziare Maria Teresa e Christopher per l'aiuto che ci hanno dato per la conduzione di questa prima trasmissione e vi ricordo che il prossimo appuntamento che sarà il 12 ottobre è con Guido Viale in cui peraltro parleremo dell'ultimo tema che ha trattato Rossano quindi dal lavoro alla cura risanare la terra per guarire insieme quindi un messaggio che viene probabilmente anche da altre esperienze che Guido Viale ha avuto che è il suo ultimo libro è il suo ultimo libro e quindi c'è questa coincidenza molto interessante quindi approfondiremo con lui questo argomento vedendo appunto l'aspetto forse dal più del visto sociologico perché secondo me questa trasformazione richiederà anche una trasformazione di tutti noi e nel modo in cui vediamo la realtà del mondo che ci circonda ringrazio ancora Rossano e ringrazio anche tutti i partecipanti e al prossimo incontro grazie ancora buona serata